L'ULS 4 ha segnalato nuovi tentativi di raggiro. Una telefonata da una non precisata associazione tipo Onlus racconta di svolgere un'attività in collaborazione con l'azienda sanitaria del Veneto orientale che si occupa del trasporto di bambini al centro di riferimento oncologico di Aviano. Un'attività che sarebbe a titolo gratuito per i bambini ammalati e le rispettive famiglie, quindi allo scopo di proseguire il servizio si chiede un contributo di 300 euro. L'operatore al telefono spiega anche che a ritirare la somma sarà proprio un inviato. L'ULS 4 però comunica che non è in atto alcuna iniziativa di questo tipo, men che meno con richieste di denaro. È una truffa. In presenza di casi del genere si invita la popolazione a non effettuare donazioni economiche in contanti o qualsiasi altra forma e a segnalare l'evento alle autorità competenti. Amaro il commento del direttore Bramezza. Truffare le persone utilizzando presunti bambini ammalati di tumore è qualcosa di ignobile.